I problemi dell'occupazione si sono radunati questa mattina a Chieti, fuori dalla sede dell'ARPA, i dipendenti della Sistema SPA, una manifestazione civile ma ferma in difesa del posto di lavoro. Lucio Valentini. Chiedono garanzie per il loro futuro i 104 dipendenti della Sistema SPA. La scelta dell'ARPA di vendere il 62% delle azioni ha eroso molte certezze e sollevato dubbi. Non avevano affatto convinto le dichiarazioni sia dell'assessore Morra che dello stesso presidente Cirulli che avevano affermato sostanzialmente che questa costituiva l'unica soluzione per garantire un futuro ai lavoratori. Adesso purtroppo abbiamo capito di che futuro si tratta ed è un futuro fatto di disoccupazione. L'unica offerta pervenuta ritenuta conforme dal punto di vista economico alle bassi d'asta fissate nel bando e è stata presentata dalla società Entrast di Notaresco facente capo al gruppo Ettorre. L'attuale consiglio di amministrazione della società Sistema, in una lettera inviata alla direzione territoriale del lavoro di Chieti e le organizzazioni sindacali, ha chiesto un incontro per parlare delle modifiche tecniche, gestionali ed organizzative e dell'impatto sull'organico. Su 100 persone, 40 persone rischiano il posto. Non siamo d'accordo. Chiariamo immediatamente un incontro con l'azienda Arpa per il rilancio di questa azienda e non per la soppressione dei posti di lavoro. Le attività di sistema sono strategiche, stiamo parlando di informazione al pubblico, di vendita di titoli di viaggio. Sono il primo punto in cui l'utenza si imbatte con il servizio pubblico e deve essere un servizio qualificato che non può sfuggire dalle mani dell'unica regia dell'azienda unica regionale.